124 visite di cantiere nel 2022. È questo il bilancio dei controlli compiuti dai tecnici del CPT della provincia di Piacenza. In generale tra i giudizi in prima e seconda visita i tecnici hanno rilevato un trend positivo. Le lacune presenti durante la prima visita sono state colmate e proprio per migliorare la sicurezza stamattina è stato siglato un importante protocollo d'intesa tra l'ente scuola ed ile di Piacenza e il comando carabinieri per la tutela del lavoro. Una collaborazione della durata di due anni in cui l'ente si impegna a formare i militari in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro nel settore dell'edilizia. Lo scopo è sempre quello di avere sempre più sicurezza nei cantieri praticamente quindi noi abbiamo aderito a questa iniziativa abbiamo sposato il progetto perché con l'arma dei carabinieri abbiamo deciso di fare questa partnership praticamente dove i nostri corsi di formazione soprattutto sul coordinatore della sicurezza potesse essere d'aiuto anche a loro per la loro formazione visto che poi appunto leggi sono sempre in evoluzione e quindi noi naturalmente essendo nell'ambiente e naturalmente avendo come obiettivo la sicurezza sui cantieri come primo obiettivo siamo naturalmente sempre molto aggiornati sul discorso e quindi di fare questi corsi anche per loro. Gli incidenti, gli infortuni sul lavoro purtroppo rappresentano ancora una piaga nel nostro paese anzi nel mondo come si può contrastare questo fenomeno? Sicuramente attraverso l'attività di vigilanza che noi effettuiamo i nostri ispettori del lavoro del NIL, del Nucleo Ispettorato Lavoro Carabinieri quotidianamente effettuano accessi ispettivi sia per verificare quella che poi è la vigilanza ordinaria quindi verificare che ci sia la regolarità dei rapporti di lavoro dal punto di vista retributivo, contributivo e fiscale e sia per verificare quella che è la vigilanza tecnica. Le irregolarità più frequenti allora sono quelle che maggiormente sanzioniamo per le quali è prevista anche la sospensione dell'attività lavorativa sono il pericolo di caduta dall'alto e il pericolo della scarica elettrica e poi schiacciamenti quindi queste sono quelle che ci interessano di più che sono maggiormente sanzionate.